Caccia al dinosauro! Ciao Norman! Cerchi un tesoro? Sì, ma finora ho trovato solo pezzi di legno. Guarda, io ho trovato un fossile. È un ammonite ed è vecchia di milioni di anni. Più antica ancora dei dinosauri. Forte! Peccato però che non sia un dinosauro. In questa zona ce n'erano, lo sai? E si possono vedere ancora le loro orme impresse nella pietra. Guarda, come questa. Wow! Ora andrò in cerca di impronte di dinosauro. Dove vai, Norman? Non è proprio il caso. La marea sta salendo e ti ritroveresti nei guai. Non importa, tieni. Ti regalo la mia ammonite, d'accordo? Davvero? Grazie, Trevor! Ben fatto, ragazzi! E anche... Ragazza, ora l'incendio è domato. Ma guardate lassù! Non si preoccupi, signore. Quello è soltanto un manichino. Lo prendo io, signore. Anche i manichini vanno salvati, Cridlington. E in queste situazioni è molto importante saperli sollevare. Sam adesso ci mostrerà come procedere. Nota come un buon pompiere è sempre ben saldo sui suoi piedi. Capitano Steel, va tutto bene, signore? Quasi. James! Sara! Ho qui qualcosa che scommetto voi non avete mai visto. Oh! E che cos'è? Guardate, è un piccolo di dinosauro. Ma quello non è un dinosauro! Quello è un ammonite. Ce ne sono tantissime qui intorno. Non sapevo che voi foste così intelligenti. Ma scommetto che non avete mai visto un vero dinosauro. Ma certo che no! Ormai non ce ne sono più ai giorni nostri. E invece sì! Io ne ho appena visto uno sulla spiaggia e so anche dove vive. Non è vero. Glielo farò vedere io. Dovrebbe tenerlo a riposo per qualche giorno. Il problema è il legamento. Oh, sciocchezze! Io ho un lavoro da portare avanti. E comunque mi sento in forma come quando... Oh, sì, ecco, forse un po' di riposo mi farà bene. Ecco, sì, farò così. È molto meglio così, signore. Mi creda. Bene, ecco fatto. E adesso ritorniamo alla spiaggia. Finito. Finalmente delle impronte di dinosauro. Scommetto che adesso i gemelli le scambieranno per vere. James! Sara! Volete venire a caccia di dinosauri? Oggi ho intenzione di catturare uno di quei colossi. Ma non dire sciocchezze. D'accordo, fate pure come credete. Ma forse avete soltanto paura. E perché mai dovremmo avere paura di qualcosa che non esiste neanche? Oh, cipicchia! Ma che roba è quella? Ora fate attenzione, voi due. E mi raccomando, tenete gli occhi bene aperti. Oh! Ma quelle sono impronte di dinosauro. Che cosa vi avevo detto? Ma non possono essere vere impronte di dinosauro. E invece sì. Io ve l'ho detto che qui ne avevo visto uno. Andiamo. Seguitemi. Stavolta riuscirò a catturarlo. E poi io non ho paura. Norman! Norman! Dove sarà andato? Questo sarà il dinosauro! Ma che dici? Quale dinosauro? Questo è solo Norman. Norman! Dove sei? Norman! James! La marea sta salendo. Dobbiamo ritornare subito indietro. James! Oh no! Cosa? Allora eri davvero tu? No! No, era il dinosauro. È scappato da quella parte. L'ho visto io. Fa pure a vedere se non mi credi, James. Puoi contarci. Allora andiamo. James! Norman! Quelle scale sono una tortura in queste condizioni. Spero che non sia troppo tardi per il pranzo. Ecco, in effetti lei è in anticipo. Oggi, a dire il vero, sono io in ritardo. Ho capito. Allora, chiamami quando sarà pronto. James! Norman! Venite fuori! Andiamo via o resteremo intrappolati qui dalla marea. Abbiamo un bisogno d'aiuto. Forse mi vedrà qualcuno dagli scogli. Io lo sapevo che non c'era nessun dinosauro. Ti sbagli? È che sono molto bravi a nascondersi tutto qui. James, guarda! C'è! L'acqua! Siamo in traola! Sì, io ho visti un paio d'ore fa. Io credo che stessero andando alla spiaggia. Beh, non sono ancora tornati. E la marea sta salendo. Devo chiamare subito Sammy il bombiere. Oh, James, Sarah e Norman scomparsi. Oh, santo cielo. James, Sarah e Norman sono scomparsi. Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia. Avverta il soccorso alpino, signore. Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare. Qui in soccorso alpino. Vedo Sarah su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie, Tom. Ora la vediamo anche noi. Salta su, Sarah. Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. L'ingresso della grotta è allagato, Sam. Aiuto! 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 Tix, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua. Deve essere un mostro marino. Ma Norman! Non ci sono mai stati! Penny! Salve, ragazzi. Norman! Ritorna qui, è solo Penny. Io lo sapevo. Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori da qui. Ma che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman. Tieniti a me, James. Ehi, è fredda l'acqua. Non pensarci. Pochi secondi e sarai in salvo. La marea sta iniziando ad abbassarsi. A quanto sembra è stato il tuo scherzo a mettere tutti in pericolo, Norman Price. Eppure sai bene che ignorare le maree può essere rischioso. Mi dispiace, Sam. E voi due avreste dovuto saperlo anche meglio di lui. Ma mamma, Norman aveva detto di aver visto un dinosauro. Beh, allora doveva essere un esemplare molto vecchio. Perché ho trovato il suo bastone. Non fuori tempo che pensavo ad un addestramento di questo tipo. Ora, noi appiccheremo un incendio alla base della torre di addestramento, e cioè qui, per andare a salvare una persona all'ultimo piano, cioè qui. A questo punto, io nomino Sam, responsabile operativo degli autorespiratori, e Penny, ufficiale della sicurezza dell'intera operazione. Sì, signore. Ed io che cosa faccio, signore? Oh no, voglio sperare che non sarò proprio la persona da salvare. Magari. No, tu sarai il numero due di Sam, e tutti insieme dovrete salvare Dolly. Ma non è il vecchio manichino che abbiamo sempre usato nell'esercitazione? Sì, ma con una parrucca. Non badiamo a spese noi. Nessuno a Pontipandi mi batte a nascondino. Ma scherzi, quando io mi nascondo divento invisibile. Ma che dici? Non è vero. Sentite, io credo che voi siate entrambi molto bravi a nascondervi, e adesso potremmo smetterla di litigare. Ho un'idea, perché non facciamo una bella gara e vediamo una volta per tutte chi è il più bravo tra di voi? Che cosa? D'accordo, Sara e James dovranno provare a trovarci. Io ci sto. E adesso, ragazzi, che vinca il migliore, cioè io. Cerca almeno di non nasconderti in un posto pericoloso, d'accordo? Uno, due, tre. Così dovrebbe bastare, Sam. Yuhuu! Senti, Sam, vuoi che faccia in modo che Dolly finga anche di salutarti? Così forse potrebbe essere più emozionante. Fai pure come credi, Elvis. Ecco un buon nascondiglio. Qui non mi troverà nessuno. Vedi, anche a me piace giocare a nascondino, ma Norman e Mandy adesso stanno davvero esagerando. Che cosa vuoi dire? Ti ricordi quando Norman si è nascosto vicino al centro di soccorso alpino? L'abbiamo cercato per tutto il giorno, finché non è dovuto intervenire Tom Thomas. Coraggio, vieni con me, Sara. Andiamo a cercarli lungo il molo. Questa volta troverò un nascondiglio migliore del solito. Allora, li hai trovati? Guardatela, non sembra una vera signorina. Non ti sarai presa una cotta per dolly? Bene, a questo punto ci siamo meritati un bel tè. Ecco, quello sì che è il nascondiglio perfetto per me. Ammettilo, James, non riusciremo mai a trovarli. Sì, sì, ormai abbiamo cercato ovunque. Ehi, papà, è uscito il mare. Ah, sì. Ciao, papà, ciao. Ma che strano. Speriamo che il leone non si sia di nuovo addormentato sotto le mie nasse. Ma che cosa abbiamo qui? Una clandestina. Credo di avere il mal di mare. James, ho appena trovato Mandy, è là. Oh, per meglio dire, l'ha trovata papà. Guarda. Hai ragione. Aspetta, perché adesso si sporge così tanto? Sembra che stia male. Oh, poverina. Non bisogna mai nascondersi su una barca e poi senza neppure indossare il giubbotto di salvataggio. E se fossi caduta in mare? Mi dispiace davvero tanto, signor Jones. Vede, io stavo giocando a nascondino. Ti consiglio di giocare in un posto meno pericoloso la prossima volta. Lo farò, glielo prometto. Trova, tata! Oh, grazie, Sara. Bene, allora sembra che la gara di nascondino l'abbia vinta a norma. Andiamo a cercarlo e diciamoglielo. Sperando che si sia nascosto in un posto meno pericoloso della mia barca. Yuhuu! Avete visto Norman? Non è venuto a casa per pranzo e oggi c'è il suo piatto preferito, bastoncini di pesce. Lo stiamo cercando anche noi, signora Price. Stiamo giocando a nascondino. Oh, ma non gli sarà successo qualcosa, spero. No, si sarà nascosto e sono sicura che sta bene. Oh, che amatelo istinto materno, ma io credo che sia in pericolo. Devo chiedere aiuto e subito. Tu non crederai che sia sul serio in pericolo, vero? Io spero che vada tutto bene. Dolly conta su di noi, Sam. Lei è in mani sicure, Elvis. Oggi Norman non è tornato a pranzo. Sembra che si sia nascosto chissà dove a Pontipandi. A questo punto io chiamerei Tom, signore. Lui avrà sicuramente una visuale migliore dall'altro. È un'ottima idea, Sam. Questo significa che la nostra esercitazione potrà proseguire come previsto. Allora, c'è qualche posto dove non avete ancora guardato? Solo la caserma dei pompieri, ma io non credo che si sia nascosto lì dentro. Sarà meglio dare comunque un'occhiata. Non parli molto, vero? Ehi, questo sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore. Ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico. Allora diamo l'allarme. Coraggio. Ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi. E buon lavoro. e buon lavoro. Ora non preoccuparti, Dolly Ti porteremo in salvo tra un secondo Diamo un'occhiata alla spiaggia Aspetti! Oh, no! Guardi, la torre d'addestramento È Norman! Aiuto! Guarda in cima la torre, Sam Ma quello è Norman Price Che cosa ci fa lassù? Aiuto! Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala Non preoccuparti, Norman! Sam, sta venendo a prenderti! Oh! Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo Presto, Sam! Mi porti via da qui! Oh, i miei biscotti! Urrà! Arriva! Bravo! Allora, sentiamo un po' Vincere una scommessa è diventato forse più importante Della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, capitano Steel Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Ponti Pandi Ascoltami bene, io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po' Sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare due ore fa D'accordo, mamma Ma che cos'hai, Elvis? Abbiamo fatto un ottimo lavoro Ma la mia povera Dolly Purtroppo non ce l'ha fatta Sei sicuro? A dire la verità, Norman non è stato l'unico che ho portato fuori da quell'inferno Guarda un po' dietro di te Dolly! Sei salva! Sei veramente un grande piccolo eroe, Sam È solo il nostro lavoro, Elvis È quello che siamo addestrati a fare Io non ho freddo Io non ho freddo Io non ho freddo Ho chiamato Mike per farlo venire ad aggiustare la caldaia Ma per ora dovrei accontentarti della stufetta elettrica Grazie, sto congelando Ad ogni modo, Bronwyn Ricorda di non mettere niente su questa stufetta Perché potresti anche provocare un incendio Dove sono Sara e James? Sono andati fuori a giocare Spero che si siano coperti bene Hai sentito anche tu, Sara? Quello era un bambino Non può essere, James, ma quale bambino? E invece sì Ecco, è di nuovo lui Ciao, Norman, cos'è quello? Wall-E ha trovato un agnellino James pensava che fosse un bambino Non è vero? Beh, anche tu Comunque tu non dovresti fare questi scherzi, Norman Non è divertente Ma io non ho fatto niente Però è divertente Norman, mi presteresti l'agnellino? D'accordo Ma che vuoi farci? Farò finta che sia un bambino E voglio proprio vedere se qualcun altro ci crede Tua sorella è uno spasso Andiamo, Norman Sono sicuro che ci sarà qualcosa di meglio da fare Che giocare ai bambini Allora? Oh, certo che oggi è una giornata veramente molto fredda, vero Sam? Perché non fa come me, signore? Muoversi è sempre il modo migliore per riscaldarsi Non tutti hanno così tanta energia da bruciare, Penny Sciocchezze, Sam Forse sarò di qualche anno più vecchio di te Ma ho ancora parecchia energia, anch'io State a vedere Ma io non parlavo di lei Quello che volevo dire Non dire altro, Sam E comunque io sono ancora in perfettissima forma Molto più di voi C'è nessuno? Sembra proprio che qui non ci sia nessuno E quindi questo renderà ancora più bella la sorpresa Lo so che è vecchia Ma finora non ci ha mai dato problemi Non preoccuparti, Bronwyn Te la rimetterò a posto in cinque minuti O non mi chiamo più Mike Bacchetta Magica Flood Oh, no Ciao, Sara Che cosa fai? Era tanto tempo che non ti vedevo giocare con le bambole Non sto giocando con le bambole Faccio la babysitter Sara Ma dove hai trovato quel bambino? Non sei troppo piccola per badare a un... Certo è strano il tuo bambino Lo so Ho deciso di chiamarlo Bambignello Oh, Sara Sempre a scherzare Oh, sì Avanti Permesso capitano Steel Signore È tutta la mattina che corri Oh, sì, sì Esatto, Penny Lo so che non ci crederai Ma sono ancora molto più in forma di tanti giovanotti Ma certo, signore Ne sono convinta Comunque avevo solo bisogno di un modulo 23 Eccolo qua, Penny Grazie, signore Buona Penny Sono esausto E adesso non scomparire, d'accordo? Non preoccuparti, Dillis Tornerò non appena avrò bisogno di comprare qualcosa da mangiare Ma... Oh, un bambino Io adoro i bambini Sono stupendi Specie quando sono piccoli Oh Ma che cosa... Oh, ecco Certo Certo che ha dei bei riccioli Tesoro Ti suggerisco di correre subito a casa Prima che inizia a piovere Oh, certo che... Povera creatura Un brutto musetto Vieni a ripararti Continuo a ripeterti Che tutto il giorno che corre Sono preoccupata che possa esagerare Con tutta questa attività Ormai non è più così giovane Non posso crederci, Penny Eh, la verità, Elvis Vai pure a vedere Che cosa c'è, Cridlington? Ecco, veramente io... Io ero solo passato a... A salutare Arrivederci Non ce la faccio più Mamma Si zela là fuori Oh, poverino Sei tutto bagnato Ora metto ad asciugare il maglioncino E poi proverò ad asciugarti Ecco fatto Vedrai che tra un minuto Sarai al caldo anche tu L'ho pulita E adesso è tornata come nuova Però mi raccomando Dovresti farla controllare Almeno una volta all'anno Ma sei sicuro che funzioni bene? A me qui sembra proprio Di sentire odori di bruciato Oh, oh Sì, hai ragione, Bronwyn Non me ne ero accorto Prima, purtroppo Ora non facciamoci prendere dal panico Restiamo calmi Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio Allora, adesso prova a ripetere con me Io devo restare calmo Io devo restare calmo Io devo restare calmo Ma che state facendo qui dentro? Venite tutti fuori E qualcuno chiama i semi il pompiere È tutto il giorno che corre È vero, l'ho visto anch'io Oh, beh Ora non sta correndo Elvis Poverino, sarà stanchissimo Ma scusate Come avete fatto a credere Che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria? Un incendio alla pescheria? Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra Dove state andando voi due? A salvare un bambino Ma a me non sembra un bambino Infatti quello è l'annellino di Wally Che ho preso per fare uno scherzo È tutta colpa mia Oh, mi dispiace tanto Tranquilla, Sara Ora ci pensiamo noi Penny Prendi gli autorespiratori Elvis Tu prepara l'idrante Ora vado a salvare il... Il bambino Oh, Sammy il pompiere Il mio agnellino Io lo sapevo Che non era un bambino Anch'io, Mike Anch'io Beh, Sara Ma è comunque piccolo E vuole stare con Wally Ma che succede? Speriamo solo Che non ci sia stata qualche chiamata O mi avrebbero trovato a dormire in servizio Ragazzi? Sam? Elvis? Penny? Ma dove siete finiti? Che brutto ventaccio Anche quest'anno puntuale È arrivato il Natale Ma chi avrà bussato la porta? Ehi, guardate, Penny Oh, perbacco Perbacco Bel colpo, Penny Io non avrei mai pensato di decorare anche il Capitano Steel E neanche io, Cridlington Che ne dici, Penny? Oh, niente male Oh, niente male Comunque ho portato altre luci Bene, mettiamo anche queste sul Capitano Steel Che ne dite? Per quanto mi riguarda, non se ne parla proprio Beh, io scherzavo, signore Quest'anno il nostro supermercato avrà le più belle decorazioni di Natale di tutta Pantipandi Io direi che ne abbiamo già abbastanza, Norman E dai, mamma Perché non mettiamo anche queste? E anche queste qui, che sono intermittenti Io devo ancora riuscire a sbrogliare queste E poi non ci sono prese per collegarle tutte Andiamo, mamma Vedrai, sarà un vero spettacolo quando saranno tutte accese Allora, Sam, che cosa ne dici? Ti piace? Io non credo che collegare tutte quelle spine su una sola presa sia una buona idea Ma anch'io voglio le decorazioni di Natale nella mia cucina, chiaro? Per me va bene, Elvis Ma questo è un vero pezzo d'antiquariato Che rischia di surriscaldarsi se lo colleghiamo a troppe spine Oh, ma io volevo solo creare un po' di atmosfera Niente in contrario Ma allora prendi una prolunga e sfrutta anche quella presa lì Non avevo mai visto niente del genere Adesso spero sarai soddisfatto, Norman Price Sì, ma queste sono soltanto le luci Adesso dobbiamo mettere le altre decorazioni Per iniziare io voglio gonfiare questo bel babbo Natale Norman Price, adesso stai davvero esagerando Non abbiamo neanche un giardino dove metterlo, lo sai? Non serve il giardino Possiamo appenderlo ad una corda e far sembrare che stia per scendere dal camino No, Norman, no È sul serio stavolta Oh, d'accordo, mamma Se non vuoi... Se non vuoi che io sia felice a Natale Come previsto, i forti venti che stavamo aspettando sono arrivati e dureranno fino a lunedì Perfetto, mamma E adesso legalo al camino Oh, oh Norman! Io non ce lo faccio, c'è troppo vento La scala si muove Ora te la tengo io, mamma Coraggio Ehi, torna qui, papo Natale Norman, dove stai andando? Norman! Norman! Non lasciarmi qui! Aspetta pure in macchina se vuoi, non ci metterò molto Mamma, mamma, mamma Che c'è, Mandy? Ho visto Babbo Natale, sul serio, è andato di là Io qui non lo vedo E poi manca ancora una settimana a Natale Ciao! 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 Eppure io sono sicura di averlo visto, dico sul serio, non sto scherzando Beh, io non vedo proprio niente, Sara, ti sarai immaginata tutto come al solito Non è vero E' inutile, Norman, l'abbiamo perso Perciò chi? Babbo Natale Ecco, te l'avevo detto che l'avevo visto Non fare così, Norman E poi abbiamo messo più luci e decorazioni di qualunque altro negozio in città Ma, mamma, non abbiamo un altro Babbo Natale in magazzino? No, Norman, purtroppo quello era l'ultimo Non puoi ordinarne un altro? Ormai manca solo una settimana a Natale, non arriverebbe mai in tempo E tu di che si tratta di un'emergenza Aiuto, questa è un'emergenza Io dicevo soltanto così per dire Mamma D'avvertite, Sam, il pompiere, subito! Incendio al supermercato di Dillis? Incendio al supermercato di Dillis Sam, ha chiamato la signora Price E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia Ci mandi Penny con la lancia Che buona idea, Sam! Penny? Vado subito, signore! È un incendio di natura elettrica Quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione Da quella parte Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo C'erano troppe spine su una sola presa Ecco dove era il problema Elvis ha ragione, Dillis Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese Bisognerebbe sempre evitare Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci Ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora Scusa, mamma Guardate chi stava nuotando nella baia L'uomo in mare era proprio Babbo Natale Evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni Ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto Sul tetto? Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino? Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse A ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi Sorridi, Norman Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te Sì, Norman Sei stato molto gentile E così tutti in città potranno vedere Babbo Natale Sì, ecco Non vorrei essere egoista Ehi, Norman Lasciani qualcuna per gli altri In effetti Questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale E poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti Una tortina natalizie, signore? Oh! Grazie molte, Elvis Il nuovo eroe della porta accanto Grazie al cielo Siete qui E lassù, Sam Non preoccuparti Sta tranquilla È tutto sotto controllo Veni giù gli stabilizzatori subito Stabilizzatori giù Presto, Sam Adesso sto alzando la piattaforma Avvicinati ancora un po', Penny Dai, su, coraggio, leone Vieni qui È ora di tornare a casa adesso Ah, ma dove stai andando? Guarda un po' che cosa ho qui Funziona sempre Ok, Penny Riportaci giù Oh, grazie, Sam Attento, Sam Sto abbassando Non posso crederci L'hai salvato Oh, Sam Io non so come ringraziarti Il povero leone doveva essere terrorizzato Se fosse davvero terrorizzato Non continuerebbe a tornare qui sopra Poverino Lui dimentica quanto sia alto il tetto Fermi Aspettate Mi sono persa qualcosa Avrei voluto riprenderti con la mia videocamera Oh, non è stato nulla di così eccitante Ho soltanto portato leone giù dal tetto Di nuovo Oh Ehi, ho un'idea Adesso non potrebbe riportarlo lassù per me Non credo proprio, Mandy Ma io volevo riprendervi No Povero leone Ciao, Mandy Norman Che c'è? Io volevo soltanto essere ripreso Ehi, ho un'idea Perché non giriamo un vero film insieme? E poi tuo fratello Sam l'ha salvato, Charlie Seme è un eroe Non è vero, leone? Certo che i pompieri sono tanto coraggiosi E i pescatori, allora? Siamo coraggiosi anche noi Oh, ma sì, certo Evviva papà! Tu sei il nostro eroe! Sì, ecco A questo punto io dovrei tornare al mio peschereccio Ciao a tutti Ehi, ma... Sarah! James! Aspoltate! Ehi, ragazzi! Vi andrebbe di partecipare ad un film? Chiamate il peschiatore Charlie! State tranquilli Sto arrivando È tutto sotto controllo Sei il migliore, Charlie! Urrà! Urrà, Charlie! Bravo! Perché non posso essere io l'eroina? Ma perché sarò io la stella del film? E poi è stata una mia idea Charlie, va tutto bene? Eh, no, cioè, voglio dire... Certo! Allora, allora vado Ho avuto un'idea fantastica per il mio costume Voi aspettate qui Torno subito Sei tu, Norman? Sono sotto la doccia Scusa, mamma E che cosa sarebbe quello? È il mio costume Io sono un super-eroe Chi ha preso la tenda del bagno? Norman! Sì, questo è il posto giusto Allora, Sara è in difficoltà Ed io corro per salvarla Bene, siete pronti? Motore! Azione! Norman! Dovrei dirlo io, azione Dopotutto la videocamera è mia Andiamo, Mandy Non puoi fare tutto tu Ok, d'accordo Azione! Oh, adesso io ti lascerò qui In modo che i gabbiani ti finiscano James! Oh, aiuto! Aiuto, aiuto! Qualcuno mi salvi! Arrivo! Non preoccuparti! Norman è qui! Ora ti salverò io! Aspetta! Norman Man Aiuto, aiuto, aiuto! Qualcuno mi salvi? E allora, Norman Man Che aspetti? Aiuto, aiuto! Qualcuno mi salvi? Ma... Aiuto! Aiuto! Ferma! Resta lì dove sei, Sara! Arriva Charlie, il pescatore! Aiuto! 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 Qualcuno mi salvi! Ecco, io sono pronto adesso! Io no, devo riaccendere la videocamera! Allora, adesso qualcuno viene a salvarmi oppure no? Sto arrivando, Sara! Tieni duro! Papà! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi! C'è Norman Man qui! Norman! Smettila di sognare! Tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare i semi il pompiere! Aiuto! Un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Non preoccuparti, papà! Semmi il pompiere starà per arrivare! Aiuto! Eccolo! Eccolo! Stai arrivando! Urrà! Urrà per Sam! Che cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam! Ecco, niente di serio! Ho solo urtato uno sfoglio e sono caduto in acqua! Sono rimasto impigliato in una nassa! Ma posso farcela? Oh, no! Adesso mi tuffo a dare un'occhiata! Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio! Non lo so! Io volevo solo fare l'eroe! Sì! Ecco, questa è quella che si chiama un'azione da veri eroi! Urrà! Evviva! Fantastico! Bell'amore! Guarda, leone! Lo vedi? Il tuo eroe è in tv! Io mi sento così in imbarazzo! Mai quanto me! Quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno! Aspetti! Adesso viene la parte migliore! Guardate! Saluti da Norman Man! Sono un eroe anch'io! Norman! E con questo Sam ha fatto tre salvataggi in un solo giorno! Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! Norman! Finalmente, Norman! Ma che cosa stai combinando? Niente, mamma! Niente? Con la mia scopa! E questa è la mia coperta buona! Mamma! Mi serve! Io oggi devo andare in campeggio! E come potrò fare la tenda senza la scopa e una coperta? Campeggio? Oh, Norman! Il campeggio è sporco! Pericoloso e anche... Il campeggio è divertente! Ah! Ciao, Trevor! Non ti avevo vista! Io adoro il campeggio! Vivere all'aperto, respirare aria fresca e natura stupenda! Ero anche un boy scout, lo sai? Oh, davvero! Dovevi essere carino in divisa! Bene, ragazzi! E anche, ragazza! È tornata la primavera! E sappiamo tutti che cosa vuol dire, giusto? Forse fiori? No, Cridlington! Vuol dire campeggi, escursioni e picnic! Cioè tutte cause potenziali di incendi! Incendi di bosco o di sterpaglie che hanno bisogno di tecniche di spegnimento diverse e di diverse attrezzature! Sembra un ventaglio! No, Elvis! Quella pala serve a spegnere i fuochi di sterpaglio! Dimmi, Norman! Tu hai mai dormito in una tenda o preparato da mangiare su un fuoco da campeggio? Sì, certamente! Tantissime volte! No, non è vero! Una volta volevi dormire in giardino ma sei tornato dentro quando ha fatto buio! Oh, ma avevo solo tre anni! Ascolta, vorrei sapere se qualche volta ti farebbe piacere venire in campeggio con me! Sì, mi piacerebbe tanto! Sarebbe stupendo! D'accordo! Allora che ne diresti di farlo proprio questo fine settimana? Oh, che bello! Sarebbe davvero fantastico sedere insieme sotto le stelle così aromatico! Non vedo l'ora! Ma io non... Oh, ma certo! Anch'io adoro la vita all'aperto! Non è vero, mamma! Ma ti rendi conto di quello a cui stai andando incontro, Trevor? Ti ricordo che ho molta esperienza in fatto di campeggio e so benissimo come accendere un fuoco in tutta sicurezza io ero un boy scout! Oh, scusami, Trevor! Non stavo mettendo in dubbio la tua competenza è solo che... Norman Price! Oh, adesso ho capito tutto! Norman! Vieni ad aiutarmi con le valigie? Quanto vorrei che restasse a casa! Divertitevi, ragazzi! Sarà il caso che avverta il soccorso alpino giusto per sicurezza Sai, mamma il campeggio può essere pericoloso prima di tutto si deve fare molta attenzione ai gatti selvatici Gatti selvatici? Sì! Quindi non sei costretta a restare se non vuoi, mamma? Ma, Dilis, non ci sono mai stati gatti selvatici sulla montagna di Pontipandi Ma potrebbero esserci degli animali scappati dallo zoo e tornati alla natura Non dire sciocchezze Una volta alla tv hanno raccontato la storia di un feroce leone rimasto libero per anni Mi sembra quasi di sentirlo rugire! Forse dovremmo restare accanto al pulmino D'accordo, tu resta pure qui se vuoi Oppure puoi chiedere a Trevor di riportarti a casa Nel frattempo io vado a cercare un buon posto dove montare la tenda E non preoccuparti per me, io so come trattare i leoni! Norman! Aspetta! Il leone! No, è solo Norman Grazie tante, Trevor Andiamo, mamma C'è da raccogliere un po' di legna Tranquilla, Dilis Ti assicuro che non c'è nulla di cui preoccuparsi Il pericolo maggiore nei boschi viene dai campeggiatori e dagli incendi che possono scatenare Incendi, hai detto? Sì Per questo bisogna preparare il fuoco con molta attenzione Ma... Io ho letto di due campeggiatori che non si sono accorti dell'incendio finché non è andata a fuoco anche la loro tenda No, Sam, non ci sono problemi al momento Comunque è bene che tu sappia che Trevor farà campeggio lassù stanotte Con Norman Price Ok, messaggio ricevuto Terrò gli occhi ben aperti Oh, ecco fatto A questo punto possiamo anche iniziare a cucinare Quello che ci serve è una pentola e qualcosa da metterci dentro No, al fuoco Trevor, l'intera foresta sta andando a fuoco Presto, torniamo al pulmino subito No, Dilis, da questa parte Da questa parte Vieni qua Aiuto Chiamate Sam il pompiere Un incendio sulla montagna di Pontipandi? Incendio sulla montagna di Pontipandi Sarà meglio avvertire Tom Pronto Tom, stiamo arrivando Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Pontipandi Sei sicuro, Sam? Comunque d'accordo, vi aspetto qui Che strano Eppure non vedo fumo Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo, è laggiù Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi Oh, 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 oh cielo Mamma, ma quello è solo il tramonto Norman Price Se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre Tutto questo non sarebbe mai successo Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor Scusa, mamma Ti prometto che non cercherò più di spaventarti Molto bene Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite ragazzi Ehi, ragazza Falso allarme, non c'è nessun incendio Ripeto, non c'è nessun incendio Era un falso allarme, Elvis Rientriamo Ecco l'incendio Devo immediatamente avvertire, Sam Pronto? Pronto, Sam, sono io Ho localizzato l'incendio Fate presto Sì, Tom, stiamo arrivando Tu aggiorna immediatamente il capitano Steve Oh no Mamma, Trevor C'è un incendio Dico davvero, stavolta Avvertite Sam il pompiere Subito Norman Price Devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no Non sono storie È vero Venite a vedere Oh, santo cielo Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco Tom Thomas chiama Sam Sono appena decollato Dove siete? Siamo sul posto, Tom Penny, Elvis Portate gli idranti L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti Dovremmo usare le pale e gli estintori Non preoccuparti Ho già riempito il serbatoio dell'acqua Lo spegnerò dall'alto Mi piacciono questi ventagli Mi dispiace, Sam Non avrei mai dovuto lasciare il fuoco acceso senza controllo Eppure io ero un Boy Scout Lo so, Trevor Ma anche ai Boy Scout capitano gli incidenti Ciao, Sam Sarà sicuro lasciarlo dormire da solo là fuori? Sì, Dillis Sta tranquilla Se l'allarme inizia a suonare Sam sa sempre cosa fare Se nei guai ti cacerai Sempre Sam tu troverai Su forza chiama Sam Il bocchiere a...